Salve ragazzi, oggi vi parlo di questo libro qua, l'isola dei fucili, Amitav Ghosh, bellissimo libro, un libro fantastico. Qual è la storia? La storia è questa, il protagonista è un mercante di libri antichi, un antiquario che vive tra New York e Calcutta, lui è nato a Calcutta, è di Calcutta e passa spesso i mesi invernali nella sua patria. Perché? Perché un po' perché ritrova a casa e un po' perché per lavoro può girare, può trovare qualche cosa. Bene, il libro racconta che lui, mentre mancavano pochi giorni alla partenza per New York, viene contattato da una zia che non vedeva da tanto tempo, che gli dice di andare a cercare un tempio molto importante legato ad una storia, nelle Shanderbah, che sono delle isole che si trovano nel Bangladesh, ben conosciute insomma, che sono un insieme di isole, di isolette di mangrovi eccetera. Lui un po' rilottante ci va, trova questo tempio e qui inizia una storia molto complessa, una storia vincente. E il libro si svolge, tutta la storia si svolge fra queste isole, tra Calcutta, tra New York, dove abita questo, e a Venezia. Una buona parte del libro si svolge a Venezia perché questo nostro mercante è amico di una storica veneziana, è molto amico e spesso si trova con lei. Ecco, questi sono i luoghi dove avviene. È una storia che parla di immigrazione, è una storia che non vi racconto naturalmente perché veramente è avvincente il libro, molto 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 bello, molto avvincente. E mescola insieme aspetti del razionalismo e aspetti della credenza indiana. Ecco, qual è l'aspetto che rende veramente interessante questo libro? La capacità che ha l'autore di mescolare insieme due civiltà, la civiltà razionalista, razionale, occidentale e la mentalità, insomma, la società indiana che è più legata a tradizioni, più legata a storie, più legata a favole, più legata al sovrannaturale. E questo confronto continuo è veramente interessante. Per esempio, per quanto riguarda la tecnologia, le nuove tecnologie, è molto bella una scena quando lui ci trova a contatto con un ragazzo in queste isole, in condizioni terribili, e questo ragazzo usa il cellulare internet in modo molto più utile di lui stesso. Abbiamo una visitatrice che mi sta guardando e sta vivendo, va bene, fra l'altro qui ci troviamo nel mare del Bengala, qui siamo di fronte. Benissimo, ma come fa Gosha a essere così? Perché lui stesso è figlio di due civiltà. Lui è di Calcutta, esattamente come il protagonista, è di Calcutta, vive a New York e mescola queste due cose, come la Desai, se conoscete, la Desai ha fatto dei libri molto belli da questo punto di vista. Quindi la tecnologia come contrasto. Allora dicevo prima, in queste isole questo ragazzetto prende in giro l'americano, perché è diventato un americano, perché non sa usare internet bene come lui, e dice, ma cosa credi che noi non sappiamo usare nuove tecnologie, eccetera. Poi un altro aspetto molto interessante è la storia delle persone che vengono da Bangladesh, che vivono a Venezia e che fanno lavori di tutti i tipi. Ecco, film, libro estremamente interessante, avvincente, che non vi racconto, ma vi consiglio assolutamente di vedere. E con i saluti ancora di questa ragazzina vi invito a vedere questo libro. Ciao!